Dal 1969 al 1974 Piero Sadun, uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo novecento, è stato il direttore storico della neo-fondata Accademia di Belle Arti dell'Aquila, la prima accademia sperimentale d'Italia, più attenta all'arte contemporanea e più recettiva verso i fermenti intellettuali artistici emersi nel paese dopo la contestazione studentesca del 68. Sadun sarà protagonista di una mostra all'interno dei giardini d'inverno del Palazzo dell'emiciclo fino al 27 giugno. Circa 40 le opere scelte per l'esposizione aquilana, organizzata dall'Accademia di Belle Arti dell'Aquila insieme con gli eredi dell'artista e il sostegno della Fondazione Carispac. L'esposizione nasce per celebrare nel centesimo anniversario della sua nascita un artista che nei primi anni 70 ha contribuito in maniera importante a promuovere la migliore cultura contemporanea all'Aquila e in Italia. Io e Marco Di Capo ci siamo trovati d'accordo nella selezione sulle opere mature, cioè nel momento in cui Piero Sadun ha tutti i suoi strumenti tecnici ma soprattutto linguistici per realizzare compiutamente la propria poetica. In più sono gli anni, diciamo, dagli anni 60, primi anni 70, Sadun muore nel 1974, che in più coincidono con l'arrivo di Sadun alla direzione dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Ricordiamoci che l'Accademia nasce nel 69 e con Sadun come direttore diventa una sorta di progetto pilota per una ridefinizione del sistema accademico, aggiornandola a quella che era la cultura uscita dal 68 fondamentalmente. È una giornata importantissima e tra l'altro vedendo tutti questi quadri è veramente molto molto emozionante. A 50 anni dalla sua fondazione l'Accademia di Belle Arti svolge un ruolo didattico, artistico e culturale è fondamentale per la trasmissione delle conoscenze tecniche e materiali ereditate dalla tradizione ma anche per la divulgazione dell'estetica contemporanea e per la sua caratteristica di sperimentazione continua. Ciò che adesso stiamo facendo sull'arte contemporanea è un qualcosa di assolutamente interessante. La futura collaborazione con il Maxi da questo punto di vista sarà fondamentale per noi perché riusciremo a coniugare le esperienze dei nostri professori con la creatività dei nostri ragazzi che avranno delle opportunità di qualificarsi anche con i grandi artisti che verranno esposti nel Salone del Maxi.